L'osservatore romano, cari amici, l'osservatore romano di questa mattina mi ha fatto tanto ridere, perché sull'osservatore romano di questa mattina, questa mattina e domenica, c'è scritto che molto bene il governo Renzi, molto bene relativamente alle otto donne che fanno parte dei sedici ministri, mi ha fatto tanto ridere questo articolo, ha fatto sull'odierno osservatore romano, molto bene il governo Renzi, ci sono otto donne del governo, otto donne su sedici ministri, molto bene, molto bene, molto bene, mi ha fatto tanto ridere questo articolo ha fatto sull'osservatore romano, perché tra i cardinali non ce n'è neanche una di donne, e per cui mi ha fatto tanto ridere, io non lo so se questo articolo sull'osservatore romano fa ridere pure voi, guardate che io queste cose le dico con tanto rispetto nei confronti della chiesa, capito? Soltanto rispetto, era meglio se l'osservatore romano è spesso zitto, dove sta zitto l'osservatore romano? E magari sarebbe bene che l'osservatore romano ogni tanto adesso un'occhiata ai video che appaiono sulla pubblica web tv di Serafino Massoni, io sono un'altra vita telespettatrice per la pubblica web tv di Serafino Massoni, per cui posso ridere tantissimo di quello che ha scritto questa mattina l'osservatore romano, che ha fatto i complimenti al governo Renzi che ci stanno otto donne come ministri, come ministri su 16, su 16 i ministri di otto soldoni, ma era meglio che stava zitto l'osservatore romano, perché tra i cardinali non ce n'è mancuno di donna, vabbè dai, vi saluto eh, vi saluto.